Mistero irrisolto nelle grotte della Val Camonica, dove sono scomparse le incisioni rupestri raffiguranti due uomini primitivi. Ma quelli! Siamo noi! Camillo! Presente! Scusate il ritardo! No! No! Queste sono le incisioni rupestri! Dove? Siamo? Finiti! Boo! Siamo nel futuro! Come nel futuro! Siamo i nonni dei bisnonni, siamo i nonni dei tuoi snonni, siamo qui da tanti anni insieme a voi. Siamo segni, siamo disegni, siamo buffi, siamo stagni, noi viviamo nella grotta, voi chissà. Siamo i nonni dei bisnonni, siamo i nonni dei tuoi snonni, siamo qui da tanti anni insieme a voi. Siamo segni, siamo disegni, siamo disegni, potremmo farci un selfie! Eh? Non ditemi che non sapete cos'è un selfie. No! Siete veramente due trogloditi primitivi. Sì! Come pensate, come parlavano, chissà. E fate una bella! Bugabagabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabugabug pure no bellissimo per accendere la luce si usa il gnapp che storia ma che storia buca baga 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 bruciarsi Grazie.